Per esempio, tra le misure sicuramente dovremo varare, mi impegno io personalmente, a brevissimo dobbiamo rilanciare con un piano straordinario per i ricercatori, dobbiamo migliorare anche i fondi per il diritto allo studio, per garantire a tutti di poter frequentare anche i livelli più alti di istruzione, anche coloro che non sono nelle condizioni economiche di farlo. Detto questo, questa è un'occasione anche qui per rilanciare, come sempre, il sistema Italia, no, questo vale anche per la classe di governo. Quindi mi sono convinto, e ne ho parlato anche alle forze politiche che sostengono la maggioranza, che la cosa migliore per potenziare la nostra azione sia separare il comparto scuola dal comparto ricerca e università. Sembrano appartenenti alla stessa filiera, ma hanno logiche molto diverse, hanno esigenze e problematiche molto diverse. Quindi mi farò l'autore della creazione di un nuovo ministero dell'università e della ricerca.